Oggi siamo a Suveretto, considerato uno dei borghi storici più belli d'Italia, a soli 20 chilometri dalle bellissime spiagge della costa degli Etruschi e dal mare del Golfo di Baratti e Popolonia. Vi porto in una proprietà meravigliosa che ho definito un luogo incantato, perché ricca di storia, di fascino e in simbiosi con la natura. È un casale di 450 metri quadri, con 8 camere, 6 bagni, 5 ettari di terreno e una piscina con vista sull'infinito. Si raggiunge attraverso una strada sterata di 2,5 km, perfetta con un fuoristrada o un 4x4. Vi confesso che io adoro l'off-road. Venite a scoprirla insieme a me! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!